Recondite armonie si cerano in questi pezzi di legno a solchi paralleli. Come pialle e scalpelli possano trasformare il sordo legno in sorgente di musica, a che serva questo reticolato, è una storia che vale la pena di seguire. Una lamina di celluloide passa in un bagno di acetone per poi venire incollata su una tavola. Sta nascendo una fisarmonica. Chiodi e martello connettono la cassa. Una spazzola elettrica conferisce quel lucido che somiglia alla qualità del suono di questi strumenti. Il nome deriva da fisa, che vuol dire mantice. Il mantice si costruisce con un pieghettato di cartone rinforzato agli spigoli da guarnizioni di stela. Si creano le voci, momento decisivo. La tastiera di destra, bianca e nera, a toni e semitoni, è quella che articola le melodie. I tasti comandano una serie di ance libere che, al passare del fiato emesso dal mantice, risuonano. La tastiera di sinistra con i suoi bottoni è quella dell'accompagnamento. I bottoni sprigionano gli accordi dell'armonia. E infine i timbri, quel color di violini, flauti, clarinetti, oboi, che sgorga al premere di un tasto. La fisarmonica è un'intera orchestra che si porta a tracolla. I tre pezzi, cassa, mantice e tastiera, vengono congiunti. Il resto, lo sapete, quando suona Veronica la fisarmonica... ...